Ciao! In questo video sono in compagnia di un'amica, Teresa, e di Charlie, che non vuole stare fermo, zampata! Questo è Charlie nella fase estiva, senza pelo in faccia, così. Comunque, a parte la sua coda che ogni tanto passerà da una parte all'altra, siamo appena tornate dal giapponese, ci siamo strafogate, e quindi, per restare in tema oriente, oggi vogliamo fare un video cretino, perché ci stiamo andando a ridicolizzare il più possibile questo video, Valentina, Valeria, Noemi, è per voi! E adesso vogliamo fare una cosa molto simile a quello che fa solitamente Soul Mafia, è un canale che seguiamo, piuttosto conosciuto, un ragazzo che vive in Corea fa spesso dei video con dei ragazzi coreani, noi abbiamo una malattia proprio verso la Corea del Sud, tutte le loro tradizioni, culture e soprattutto i drama coreani, e quindi oggi abbiamo deciso di prendere spunto da uno dei suoi video in cui fa cantare delle canzoni italiane a dei coreani in modo inverso, quindi noi cercheremo di cantare in coreano. Siete pronti? Preparatevi alla voce orrenda, se è una bella giornata oggi ci dispiace, perché nel momento in cui ascolterete questo video comincerà a piovere. Quindi iniziamo. Io vi avverto, sono una campana, in coreano poi non so cosa esce fuori. Dovamo entrare al massimo? In your eyes, in your mind. Questo non è coreano. Love is you. Care il cuore nella curi uni, guarda un che i sogni e i giudini Love is the moment, Care un bocchila che sonda Care il cuore nella cura, Care il cuore nella cura Care il cuore nella cura, Care il cuore nella cura Love is the moment Ti proteggo io Hai un pubblico davanti a te Grazie Hai un pubblico davanti a te Oh mio Tu sei che l'opsodo Tu sei tuo opsodo Che mi rega non cancana Dio si stupardo Canto con le orechi Tu sei riusciato Che se me ne nel camagnon Tu sei pegnon Dio si stupardo Che mi rega non cancana Che mi rega non c'è Per un c'hanno, tu in questo sé come da oh mi, solo tu! Noi, 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 no, tu deve oltre 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 a qui. No, 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 no. Adonchi saraghi aggeriago Adonchi saraghi negge jugo Sumora na gioca Nabla per te nogo Goni pleno magarika Adonchi saraghi narutota Adonchi saraghi narutota Non sia l'esergi Mamu bibi Bibii Dibidibidi Ci scriviamo anche la voce? Certo Love is feeling Fino a qua Certo Certo Love is feeling Certo 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 Facciamo sempre così Perché loro sanno che noi italiani Facciamo così Sindcri né Certo 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 suonare vai let it go let it go let it go well Aiuto! Non potremmo mai andarci! E poi io stima, io stiamo stima Non potremmo mai andarci! E poi inoltre! E poi io stiamo stiamo stufendo un po' Se mi chiede un po' E poi io stiamo stufando! E poi io stavo stufando! E poi io stavo stufando! Si, che riuscite! E poi io stavo non le ho! Io stavo stavo stufando! Dozze! Let it go! Let it go! Ah, ora mi sembrava bucciare un cuore! Grazie! Prego! Mi sembrava bucciare un cuore da ci buono! Let it go! Let it go! Tami se cien chi mi on, diy! Let it go! Let it go! La Twin is going on, eh Enidro sed! Enidro sed! Non ce l'empeucno! no 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 mi piace no 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 e con questo abbiamo finito questo video siamo contenti di avervi distrutto i timpani fateci sapere che cosa ne pensate nei commenti se possiamo andare in Corea secondo voi e soprattutto se possiamo candidarci a Sanremo il prossimo anno perché ci teniamo veramente vogliamo pubblicare un album come ci chiamiamo? quale sarà il nostro nome? come duo? che poi fra l'altro dovranno vederle anche le ragazze del Dramamania che voi sapete chi siete a posto quindi bene penso che non mi potrò mai più vergognare in vita mia come adesso come questo si può fare ci vediamo al prossimo video se volete vedere altri video di questo genere fatelo sapere che Teresa è pronta a venire qui ogni giorno secondo me è il proprio che ti mandano a quel paese ma comunque yeah mettete un pollice in su giusto per per il coraggio ecco non prenderci troppo a parole ciao 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 ciao